Parliamo dell'esorcista Il Credente. Remake, non remake in realtà, non remake, non sequel. Quindi, requel, boh, sta di fatto che ha ambientato diversi anni dopo i fatti accaduti nel primo film diretto dal ormai compianto William Fredkin. Tant'è che appunto c'è anche nel cast il personaggio di Chris McNeill, che è la madre di Reagan, interpretato da Ellen Barstain. Quindi fondamentalmente c'è nella linea temporale del film principale e fa lo stesso gioco che fa Halloween, la nuova trilogia. Quindi c'è un grosso buco temporale e poi ricomincia, diciamo, l'orrore, no? In questo caso non è un serial killer, ma c'è il demonio, non c'è un serial killer, no? David Gordon Green, regista appunto della trilogia di Halloween, insieme a Blumhouse decidono di fare questo rilancio della saga. Quindi siamo di fronte al primo film di tre film. Se non ne avesse già la certezza, visto che siamo in tema cattolicesimo, direi che Dio ce ne scampi. Invece no, purtroppo la certezza che questi due film arriveranno e ce l'abbiamo è come, nonostante l'esorcista, e poi ve ne darò conferma anch'io, non stia andando molto bene per quanto riguarda le recensioni. Quello che è stato fatto è prendere due situazioni familiari invece che una. Non sto a dirvi, a farvi la sinossi lunghissima perché non ha senso. Però ecco, voglio sottolineare il fatto che rispetto al primo film sono state prese due situazioni familiari, approfondite pochissimo, nel senso che c'è una famiglia più cattolica, un po' oppressiva anche, però non si percepisce all'inizio questa cosa. Grazie per il follow, Justinaz. E poi un'altra famiglia che è questa famiglia un po' più protagonista rispetto all'altra, una famiglia nera dove c'è un padre con una figlia. Le due bambine sono amiche e, per un motivo particolare che non vi sto a dire, rimangono possedute da qualcosa, qualcuno, non si sa bene perché, non si sa bene chi. E in effetti non lo si saprà bene mai. Questo è un po' il problema, uno dei n.mila problemi di questo film. Siamo di fronte a un film che dura quasi due ore, totalmente privo di suspense, totalmente privo di approfondimento psicologico delle famiglie, dei personaggi, piuttosto noioso, molto noioso, scritto in modo abbastanza strano. Dico strano per non dire una parola peggiore, ecco. Nel senso che non riusciamo, nel momento in cui queste ragazze sviluppano dei comportamenti strani, un po' come capitava la buona vecchia Reagan, non riusciamo proprio a spiegarci il perché. Tutto ciò che accade è posizionato a blocchi, non c'è la sensazione di un crescendo, non c'è la sensazione che qualcosa piano piano stia cambiando. Voglio cercare di non fare troppi paragoni con il film di Fredkin perché sarebbe come sparare sulla croce rossa. Non l'ho guardato pensando, vado a vedere se raggiunge minimamente. È impossibile, è impossibile che un film sulle possessioni, un film su questo franchise, possa vagamente avvicinarsi. Forse c'era la speranza di farlo, se ci fosse stata una crew dietro questo film, dignitosa. Dignitosa intendo prendere dei pezzi da 90 del cinema. Invece qua noi, ragazzi, abbiamo David Gordon Green, che ha fatto una saga di Halloween, in realtà partita decentemente ma che non sorprendeva con il primo capitolo e poi ha fatto una serie di disastri incredibili, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, sia dei dialoghi, come ha deciso di trattare i personaggi e come poi ha fatto svolgere la storia, che in realtà sembrano i tre capitoli di Halloween, sembrano tre cose staccate tra di loro. Ognuna va per la sua strada. La stessa cosa che ha fatto là l'ha fatta qua. Ha snaturato tutto quanto, ha quasi dato per scontato che chi guardava il film conoscesse il film precedente. Quindi questo lo trovo un'operazione abbastanza ingenua per chi vuole fare un'operazione di reboot. Cioè tu stai facendo qualcosa per una generazione che viene 50 anni dopo, non credo che i ragazzini che andranno al cinema avranno visto l'esorcista, la maggior parte. Sarebbe stato necessario che fosse più chiaro cosa stava accadendo alle due ragazzine. Purtroppo questo non accade. A mio avviso questo film è pessimo. Veramente uno dei peggiori film horror, ma non solo horror, uno dei peggiori film che io abbia visto negli ultimi dieci anni. Sicuramente uno dei peggiori film horror che io abbia visto negli ultimi dieci anni. È scritto male, abbastanza grotesco, com'è grotesca anche tutta la battaglia contro i demoni. Insomma, all together ce la possiamo fare. Ed è abbastanza trash questo avvenimento, perché vediamo appunto un medico dell'ospedale che ha un passato religioso che si improvvisa esorcista, un predicatore esorcista, un predicatore scusate, che si improvvisa anche lui esorcista, i genitori che si improvvisano esorcisti, un prete che dovrebbe essere l'esorcista, ma che si rifiuta di fare l'esorcista. Tutta una serie di personaggi intorno a queste due tizie che non si capisce come mai a un certo punto vengono legate schiena contro schiena e esorcizzate in questa stanza. Altro aspetto estremamente grottesco è purtroppo, pensavo invece potesse essere quell'elemento insomma un po' quel tocco di classe, quell'elemento fanservice che poteva aiutarci ad apprezzare un pochino anche sotto l'aspetto appunto del fanservice che non è proprio una cosa che io amo, però in effetti a volte funziona, è proprio la partecipazione di Ellen Barstain nel personaggio di Chris McNeil, cioè la madre di Reagan, che non si capisce per quale ragione abbia scritto la sua esperienza ed è diventata una guru degli esorcismi, ma senza essere un esorcista. In più nel film recita veramente sopra le righe, ho proprio avuto l'impressione che non ce la potesse fare. Personaggi estremamente grotteschi sopra le righe che dicono e fanno cose in overacting, ma non solo, non è solo overacting, è anche over sceneggiatura, cioè è grottesco anche quello che dicono e come lo dicono e la situazione in cui lo fanno. Tecnicamente il film ha una fotografia dignitosa, molto standard, molto simile a quelle che abbiamo nei soliti film, Insidious, Possessioni, Demoni, insomma più o meno è quella standard hollywoodiana. Il montaggio è qualcosa di assurdo, è assurdo sia proprio nel montaggio di tutta la storia che sembra veramente avere fretta nei punti chiave e pazienza dove non c'è assolutamente bisogno di stare. Quindi abbiamo delle scene pallosissime e poi quando si deve sviluppare un po' la parte soprannaturale, inquietante, non succede. Si va di fretta, vengono messe una dietro l'altra le scene e ti ritrovi con queste due ragazze con un make-up orribile, un make-up non credibile. Adesso non voglio fare confronti con Tollto Me ragazzi, però io invito tutti quelli che hanno avuto il coraggio di negare la qualità di Tollto Me a guardare questo film, guardare il make-up, guardare gli effetti speciali, guardare le morti e dirmi se questi make-up, queste due ragazze, sembrano possedute oppure sembrano truccate. Perché a questo punto non si può dire che l'esorcista... Adesso io poi lo rivedrò in 4K perché ho comprato la steelbook. Non si può dire che il make-up o comunque gli effetti dell'esorcista di Fredkin sono invecchiati male e poi presentarsi nel 2023 con il remake fatto in questa maniera. Non è accettabile. Il make-up di questo film non è accettabile. Io penso che fare il film dell'esorcista sia molto molto difficile nel 2023. Penso che molti avranno fatto questo ragionamento sul cambiamento proprio sociale quanto comunque oggi molte persone non siano cattoliche, non siano religiose, quindi ci sia anche meno timore di Dio e timore di Satana. Quindi, diciamo, l'atmosfera si perde. Quello che si sarebbe dovuto fare proprio perché siamo in un'epoca in cui si crede poco ma in un film lo si può fare perché il film è finzione, il film è astrazione, il film è sospensione dell'incredulità. Quindi noi possiamo catapultare lo spettatore in un mondo in cui le persone ancora credono. Noi non abbiamo bisogno di credere per essere spaventati all'esorcista. Noi abbiamo bisogno di credere che i personaggi credano, che i personaggi facciano parte di tutto questo. Voi seguite il Signore degli Anelli, non crederete mica che esistano veramente gli Hobbit. Quindi il coinvolgimento passa dalla costruzione di un'ambientazione, di un'atmosfera che qui manca totalmente. Non ci credeva nessuno, ma io credo anche nel film non ci credeva nessuno. Quindi ci troviamo con un film che non ha saputo assolutamente raccontare nulla, che è anche piuttosto ridicolo in certi punti, molto ridicolo. Ci sono persino due jumpscare all'inizio, poi non ce ne sono più ridicoli, che sono i classici jumpscare, adesso ne dico un esempio diverso, ma per non spoilerarvi, il gatto che salta giù dal pensile fa cadere le pentole, che cazzo ne so, la classica che non hanno niente a che vedere con il film e non c'è mai la sensazione di ansia o di potersi spaventare per quello che sta accadendo. Sembra, anche tutta la parte dell'esorcismo e di loro trasformate in... Sembra una grandissima baracconata ridicola. Questo è quanto. Ora io non voglio fare le pulci alla crew di questo film, però l'esorcista e il credente, ragazzi miei, oltre a essere diretto da David Gordon Green, che non è così bravo, e lo ha dimostrato, e non ha le idee chiare su cosa sta facendo, è scritto, togliendo appunto, perché viene citato chiaramente come autore del libro, togliendo appunto l'autore del libro, è scritto da David Gordon Green, Scott Thames, Danny McBride e Peter Sattler. Vi ricordo che l'autore del libro, che però non c'entra con questo film, ma viene citato in quanto appunto è dalla sua storia, che parte tutto, è William Peter Butley, che ha scritto un libro fenomenale. Per farvi capire il team che scrive, che fa questi film, uno è Danny McBride, attore che conoscete, simpaticissimo, bravissimo come attore, ma i suoi film come sceneggiatore sono tutti gli Halloween, e questa roba qua, questa roba qua mai sentita nominare, a caccia di papà, insomma, non stiamo parlando di un top player della sceneggiatura. Lo stesso vale per Scott Thames, che ha nel suo curriculum, soggetto è questo, io non ci andrei a bere neanche una gazzosa, che ha nel suo curriculum Insidious La Porta Rossa, Halloween Kills, Firestarter, c'è un film brutto dietro l'altro, adesso Insidious La Porta Rossa non l'ho visto, ma scommetto quello che volete, che non è un film di qualità, e Peter Sattler, terzo, quindi sono quattro sceneggiatori, nel senso che uno di questi è David Gordon Green, e Peter Sattler, che ha diretto, questo è il curriculum di Peter Sattler, allora io dico, questo è il curriculum, vabbè, magari è stato quello che ha contribuito meno, ha scritto un corto, Camp X-Ray, che non so cosa sia, e poi l'esorcista, quindi un curriculum abbastanza corto, nulla di male, però, stai andando a rifare, uno dei più, forse il più grande film horror della storia del cinema, lo stai andando a ributtare, requellare, stai andando a fare il requel dell'esorcista, e questo è il tuo team di sceneggiatori, cioè la cricca con cui hai fatto Halloween, la cricca che ti porterai dietro per tutte le prossime cose che hai deciso di fare male, non lo so, ditemi voi, non avrei voluto, cioè non vorrei accanirmi, però lo faccio quantomeno spiegando qual è la situazione, cioè la situazione è che, a mio avviso, guardando semplicemente il curriculum di questi sceneggiatori, non ci sono dei top player qua dentro, non ci sono sceneggiatori che hanno scritto bei film di successo, neanche uno, chiudo dicendo che secondo me è un film qualitativamente tra i peggiori che ho visto, recitato malissimo per il livello a cui è, quindi non chiaramente paraguato a film indipendenti con meno soldi, ma per il livello a cui è, non è recitato bene, è recitato in modo grottesco, cosa che già capita nei film di David Gordon Green. L'unico un po' interessante a livello espressivo, a livello attoriale, è il protagonista Leslie Odom Jr., che interpreta appunto questo padre, padre della bambina nera, un po' più bravo, nonostante appunto sia un po' più bravo come recitazione, ma ha dei comportamenti abbastanza strambi. Adesso non vi sto a dire cosa gli capita, farà delle cose e tu sei così poco spaventato, terrorista, è un modo di reagire alle cose che non ci convince sull'atmosfera che ci dovrebbe essere. Nessuno fondamentalmente è spaventato, nessuno è destabilizzato da quello che accade. Questo significa secondo me non dirigere bene, non scrivere bene il soggetto, i dialoghi e non dirigere bene il film, non dirigere bene gli attori. L'ultima nota stonata è, vi guardate il trailer e sentite la famosa musica bellissima dell'esorcista, inquietantissima, che avrebbe aiutato in questo film. Peccato che non c'è quasi mai e quando c'è è remixata in un modo che non si percepisce bene la melodia. È una melodia molto inquietante, se ve la ricordate, andatevela a sentire. Sicuramente avrebbe aiutato. O un remixaggio, comunque una rielaborazione di questa melodia fatta bene però, oppure la stessa, con una maggiore presenza, perché poi nel film originale si sente bene, ed è tipo a metà del film si sente, o avrebbe dato un pochino una spinta, ma anche a livello sonoro è stato svuotato. È un film che non ha anima, non ha niente, non ha nulla da dire, e quel poco che ha da dire lo dice male, risulta grottesco e ridicolo. A me spiace perché mi sarebbe piaciuto, non dico ricredermi totalmente, perché non c'era speranza. La cosa che veramente inizia a diventare una caratteristica di David Gordon Green è la sua capacità di togliere totalmente l'atmosfera alle storie che racconta. E secondo me, invece l'atmosfera è proprio quello che rende alcuni film dei cult assoluti, e salva alcuni film che sono qualitativamente inferiori, tipo aspetti tecnici che sono qualitativamente inferiori, ma grazie all'atmosfera alla fine portano a casa il risultato. Ecco, lui fa l'esatto opposto. Si dimentica di creare l'atmosfera, di coinvolgere il pubblico nel suo mondo, che sia poi un mondo assurdo. Ci sono tanti film che sono assurdi, eppure riescono a trascinarci in questo viaggio, in questo sogno, e a sospenderci nell'incredulità. C'è una mancanza di coraggio anche in questo film. Vi ricordo che nell'esorcista di Fredkin la bambina, esattamente come viene raccontato nel libro, si masturba ferendosi, ovviamente, in modo violento, con un crocifisso. E, porca troia, Fredkin mica ha detto no, sta scena la facciamo solo intendere, no no, l'ha fatta vedere. Ecco, questo è un film puritano, è un film paraculo, da questo punto di vista. Il fatto che le due bambine, adesso non vorrei sottointendere delle cose, ma che le due bambine siano una bianca e una nera, sembra proprio una di quelle operazioni per includere, non per l'inclusività, non per l'inclusività intesa moralmente, anche perché il cinema non deve fare questo. Per includere, a livello di marketing, due, diciamo, due grosse tipologie di etnie, di target, di clienti, perché è così che vedono le persone, il pubblico, certe realtà cinematografiche. Tubular Bells, esatto, la canzone dell'esorcista che citavo prima, molto famosa, molto bella, molto inquietante. Qui finisce la mia recensione di questo esorcista. Che cazzo vi devo dire, ragazzi? Questo è quanto.